Ciao a tutti quanti, adesso andremo a fare una passeggiata in un posto molto pauroso, si chiama Orrido, adesso non so esattamente, però comunque qui ti avviso già anche che potresti trovare questi animali qua, poi non so esattamente se li trovi veramente, però puoi trovare o l'orso, o l'aquila, o il cerbiato. E credo che andremo là dentro, non so se si può, però ci andiamo, sì credo che si può, ma perché non andarsi, quel paesaggio è così. Alla prossima non tanto sono buonissime i miele piene non ti fanno niente però carezzo non ti fanno niente non ti fanno niente non ti fanno niente